Benvenuti in questo nuovo video di Minecraft, questo oggi utilizzeremo un potere incredibile ovvero dei laser che usciranno fuori dai nostri occhi Avremo tantissimi poteri diversi e dovremo acquistarli guadagnando soldi Potremo fare con i laser tipo il fuoco, potremo fare delle esplosioni, potremo far comparire dei minerali, potremo fare un sacco di cose incredibili E sarà fantastico, sei pronta? È molto strana questa cosa, cioè che diventiamo Superman oggi Superman ma con poteri tutti diversi Ok, bellissimo Allora, allora, si comprano qua Come vedi il primo è il laser di carbone Ok E guarda quanti ce ne sono Copper, ferro, oro, smeraldo, redstone, diamante, nederite e pollo Il pollo è da mangiare, non è un laser Ah, dicevo Sì, 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 sì Dopo che mi presenti diamante e nederite dicevo come pollo Lo so, una cosa importante, redstone lì in alto Esplosivo No, lo voglio subito No, però aspetta Eh Ho compreso ora Eh No Cosa? No No Dobbiamo disintegrare gli animali? No, sono tu, Fere Dai, Steph Ma inizia pure Posso disintegrare te? No, non si può, non si può Fere Dai Non so come si ferma, aiuto Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta Che male Sempre non mi ha spiegato come si utilizza E poi scusami È di carbone Io pensavo tipo lanciasti pezzi di carbone o qualcosa del genere No, è un raggio nero di carbone bellissimo Sì, l'ho capito, ma non pensavo che dissi fuoco a tutta la roba Hai visto quanto è potente? Eh, sì, sto morendo anch'io È molto pericoloso Fere Eh, aiuto Mi sono data a fuoco Ce l'ho notato Che succede? Che sei un imbecila Dimmi, lo so Se viva muori Eh, non lo so, metà Vieni qui, vieni qua Te lo parlo di una cosa seria Ok Vieni, 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 vieni Allora, tu sai che quello stai facendo bruciare tutto e così via Sì Ecco, io invece preferisco l'ambiente Aspetta Aspetta Sì Come ci sei riuscito? Eh, a fare A fare questa roba Eh, così Eh, 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 eh No, come si fa? Potere del bambù E io gli do fuoco No No Come si fa? Voglio, voglio saperlo E bene, lo devi prendere È un easter egg della mappa, è nascosto No Aspetti di bruciare tutto Eh, Steph, è questo il mio potere Come faccio a fare soldi? Eh, ma non mi sembra che ti stai facendo grossi problemi Eh, che devo fare? Sei tu che mi costringi Quanti soldi ci servono per il secondo? E quanti sono andata a vedere perché questo mi ha rotto un po' le scadere Ahia, che male Sarà cogliere le bistecchine cotte Mangia prima di morire Mangia prima di morire Ok Eh, no, non ci stiamo per niente Quanto? Comunque mi prendo anche un pollo Eh, 1200, Steph 1200? Assolutamente sì Ho scoperto un segreto Dimmi Basta star fermi a guardare un unico punto E fai soldi lo stesso? Eh, certo Non devo uccidere gli animali? No Bellissimo È l'utilizzo del potere che ci fa guadagnare Ah È molto più semplice così Allora io mi rilasso Eh, perché stavo per farti appunto questa critica Che non mi piace dare fuoco agli animali Eh, ma infatti non eri obbligata Cioè se mi mettevi magari delle persone Io avrei preferito dar fuoco alle persone Io mi dissocio Così mi sei divertita molto No, io non mi dissocio Io mi dissocio Invece se mi devi far dar fuoco agli animali A me non piace Bene, mi è bruciato tutto il cavolo di bambù prima Non è vero Adesso ci penso a Stefo Non è vero Ci penso a Stefo Guardate qua Guardate che meraviglia questo bambù Dove l'hai preso quel potere? È nascosto, Ferre Dove l'hai preso? Si trova in un punto della mappa nascosto Allora, se lo trovo Eh Spacco la mappa in due Ma come? Allora, mille e due Basta, vado a cambiare la mappa Allora, laser copper Ok, mi mangio Una bella bistecchina Comunque devo dire Si Che queste nostre mappe, Stef Sono incredibili Sono una figata pazzesca Io me lo dico da sola E non ho vergogna di dirlo Perché sono troppo belle Penso di non aver mai giocato Delle mappe così belle Costruite su Minecraft E sim, lo sto dicendo da sola Ok, va bene, va bene, va bene Lo posso accettare, Ferre Cosa fa il laser rame? Porca miseria Anche qui posso stare ferma Spero Mamma mia Ma facciamo un casino Non fanno utilizzarlo No, no, no Mi sta arrivando addosso No, non stanno fermi, Stef Questo è più complicato da gestire E sono morta Non ci devono dare a noi questi poteri Stef, sto perdendo le orecchie Mamma mia Anche io Non ci senti più nulla Allora, io lo fermo un attimo E vado a vedere quanto costa il prossimo Semi quanto costa Sì, sì, sì Io non ci sono ancora Quindi continuo a farmare A distruggere il mondo Ok Bello Sta matta Che devo fare, Stef E sei tu che mi dici Di fare il raggio No, no Io non ho sentito nulla L'hai inventata tu sta mappe E poi mi dici che sono matta 6 mila Quindi ce n'è ancora da fare un po' Ma tu come fai a fare tutti quei soldi? Tutti questi soldi? Eh, secondo me ne stai facendo più di me Ficci Cioè anche il bambù ti ha fatto fare soldi No No, no Il bambù vale zero, Fere Ok, ok Ci credo, ci credo, ci credo Ok Ok, fatti, 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 fatti Ferro Ok Io dopo aver visto fuoco e fulmini Ho paura di provare il prossimo potere Non me lo spoiler Però non dirmi che cos'è Non dirmi che cos'è Ho quasi fatto i soldi Ma questo è molto interessante Adesso arrivo Gli ho fatti Fermati Oh mamma mia Non li so gestire molto Questo è molto Fere che succede? Chi è che sta ancora facendo potere? Io Eh sì Avete mai visto? Del bambù In mezzo Stavo sbagliando Fere ma che fai? Ciao Ma perché c'è il bambù? Sono io Fere Eh, cosa devo fare? Distruggere il mondo? No, scavare Sono degli occhi scavatori Cioè tu guardi Ma questi li vorrebbe marci Cioè quanto possono essere belli Nella vita di Minecraft Di tutti i giorni Gli occhi da scavatore Gli occhi da scavatore Cioè non stai lì nemmeno a faticare A muovere il piccone È perché capito così Cioè la gente dopo un po' Si rompe le scatole Di star lì A scavare tutti i giorni Invece qua Stiamo tranquilli Guardiamo attorno Le cose si scavano da sole Ed è fantastico Comunque io nettamente Faccio molti meno soldi di te Ma non è vero Cioè abbiamo comprato quasi assieme Non abbiamo nemmeno i petto Quindi non ti ci mettere Ma guarda la differenza C'è qualcosa che non va È chiaro come sole Non iniziare Se abbiamo iniziato assieme Tu facevi già più su Ho sbagliato Fere Cosa stai usando? Ho sbagliato con i fulmini Laser oro 12.000 Ok Ci sono Giusto? Ma lo sta facendo Scusami non capisco Che cosa? Il laser? Eh Allora Ecco il mio torna su Cosa? Aspetta Stef Arrivo Sono piena di ciò frusagli Nell'inventario Scusami Allora Ma funziona anche su di fai? No Fere? Sono una deficiente Cosa hai fatto? Ho ricomprato quello di fai Ho sbagliato tasto Fere vieni da me un attimo Stef Vieni 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 Rivogliami i 6.000 Sei un po' stupida Non c'è un movimento Ti posso insegnare una tecnica Ti insegni una tecnica No Allora Aspetta che devo vedere Se posso farlo No su di te non funziona Ferebbe inutile Guarda questa pecorella Ok Ok la vedi bene Vado sul minoro Guarda Meglio Aspetta Me la doro No Eh sì Stef Però c'è un modo di farmi Rimborsare i 6.000 spesi Tutti assieme Sì Ma è un problema No aspetta Quello del rompere tutto No Gli altri due No perché quello è quello che ti fa Guadagnare di più Eh l'ho capito Mira verso il basso E fai fuoco Fulmine E cosa? Tieni fermo in un unico punto Vabbè Non ce la fa Abbiamo fatto 8 mele d'oro Perché sto così stupida? Quindi siamo in un mondo Dove noi possiamo Cucinarci gli animali direttamente Creare tutto il bambù che vogliamo Scavare soltanto guardando Creare mele d'oro Semplicemente guardando gli animali O i mostri E fare fulmine a nostro piacimento Ma anche qui conviene attivarli tutti Allora Ho attivato solo l'oro Allora No io ho attivato tutto Anche quello per scavare giù Ma vai troppo veloce così Steph Fede è un problema Questo è questo Cosa? Sto a fare un disastro Io li ho attivati tutti Tranne quello del ferro Perché non ho voglia di andare sotto Ok Quindi rimango qui A fare un buon Perché costa solo 12.000 eh No ma 12.000 era quello d'oro Sicura? Allora 16.000 Eh per forza Steph L'ho appena pagato Ok Può essere Comunque è un gitt incredibile Attivarli tutti assieme Facciamo così Cioè guardate chi sono i ragazzi Sono ricissima Perfetto Basta basta Fermiamo tutto Allora Ciao Fede Che succede? Cos'è sta roba? Guardami Eh ti vedo ma che è sta roba? Eh allora praticamente evochi Dei villager Che in cambio di un blocco di terra Ti danno qualunque cosa ne derite Ok Bene Bene Allora Steph Si Ma hai preso in giro In che senso? Che numero è questo? Esmeraldo Eh che numero è? Eh Che numero è? Non lo so 18.000 Ma ho fatto No ma ho fatto No Fede scusa Io trasformo tutti i tuoi villageri in mele d'oro Fede Ah poi? Si Credo che questa cosa creerà una lag fuori di testa No e non l'hai capito Steph Vai spiegami Se gli fai i fulmini si trasformano in delle witch No Poteri incredibili qua eh Aspetta aspetta Poteri incredibili Aspetta Ma che dici auto uccidiamo però Eh si Però aspetta Guarda quante witch E basta che continui e muoiono Ah beh si effettivamente Assolutamente non hai troppi problemi Allora quindi adesso abbiamo pure il potere di ottenere quanto anelite vogliamo Ok molto bene E il prossimo è quello di Fere Fere te lo dedico Cos'è? Sei pronta? Vai Vado Guarda la montagna Vai Distruggo tutto No però non mi sembra il caso di distruggersi la mappa in cui siamo Steph Andiamo via dalla mappa Ok Aggiungiamo Aggiungiamo Grazie Aggiungiamo 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 Fere io non sento più Guardate il colore dei miei occhi È un arcobaleno Steph no mi devo fermare Cioè questo smeraldo è troppo eh Vero? Io ho mirato una montagna Fere per far quello Sì ma compagliono troppi Allora devo fare così innanzitutto Mi ho messo tutta l'armatura Seconda cosa probabilmente devo fare smeraldo Oro Consolini aiuto Same E carbonio in modo tale che poi uccido tutti i villager Cioè mi viene dato Ma io faccio esplodere il server così Steph Aiuto Fere non me lo fai addosso ti scongiuro E non so dove sei come faccio a vederti No ma guardate i villager Fere che cavolo stai combinando Allora li sto generando Tu sei impazzita No li sto generando per poi ucciderli Avere tutti i miei poteri attivati Tu sei impazzita E sono morta Allora Steph no non riesco più a gestirlo Eh chissà come vai Allora aspetta smeraldo basta Speri devi ammazzarli Speri devi ucciderli Speri devi ucciderli Ok Eh li sto uccidendo Ok Ok va molto meglio Che esperienza di vita Mannaggia Hai fatto un casino È stato bellissimo Guarda anche lì Sei un imbecille Guarda Guarda tutte le mele d'oro Mamma mia Perché dobbiamo sempre esagerare Fere nei video Perché altrimenti non ha senso Ma che non ha senso Allora quanto costa il prossimo Infatti ti lo puoi già permettere Redstone Oh Steph Eh Steph aiuto Lo shop è camperato da Fere Sì lo vedo Ma è camperato da witch Sì ma stai vendo O cosa sto facendo No per dire Da witcher Vabbè Basta Sì Steph Riesco a vederti a malapena Ok Allora io rimango ferma così Ma è bellissimo quello Io rimango ferma così Così non distruggo troppo E nel mentre Faccio un botto di soldi Però 30.000 Posso già comprare il prossimo Ma avete rotto le cazzole Sto morendo per colpa delle witch Fatevi una vita Le trasformo tutte in mele d'oro Aspetta E basta Creo letteralmente delle strutture Di diamante Allora c'è un'altra camperona Qui dentro La roba assurda Cioè È il posto con più diamanti Che abbia mai visto E l'ho fatto in due secondi e mezzo Sto di nuovo ancora morendo No Steph Eh Bisogna star fermi Con tutti questi poteri Perché? Perché non fa Adesso sono anche io Con diamante Guarda i soldi che abbiamo No ragazzi è troppo È davvero troppo È davvero troppo Io ho sempre sognato Un mondo con i diamanti Ma così è davvero troppo Io non l'ho mai visto Con i tanti diamanti Sinceramente Guardate Che cavolo Abbiamo combinato Che stupendo Cose molto brutte Allora Ok Finalmente abbiamo anche questo Quanto costa? Ma Aspetta Fai così Guarda Perfetto Mannaggia Allora Mannaggia 50.000 Eh Non ce li ho Eh E niente Devo fermarli Allora Puntiamoli Se la avete con me Così Se mi volete picchiare O siete con me in squadra No 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 Steph non so che ti sta succedendo Io devo fare i 50.000 Mi picchiano E cosa succede Sono ferma Per non distruggere troppo il mondo Allora Divertiamoci No Steph Nulla Nulla Tranquilla Fere Divertiti Fere Potere d'oro Potere d'oro Potere d'oro E trasformo tutti Me le doro Sì 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 Vediamo Guarda Sta fungerando Non mi avrai mai Sì Vediamo Guarda Scometti che schiatti No non schiatto Non capisco dove fare Perché c'è troppo casino Ok la stiamo circondando È morta Steph non è possibile Steph ho bisogno di un attimino Disattivare i poteri Ti fermi anche tu Uahah Non mi ricordo più cosa ho attivato Cosa hanno Basta Steph devo prendere l'ultimo Passiamo a crashare il server Mi fai comp... Per i primi punto Esatto Ecco Allora Non c'è più lo shop Cioè Mi fai comprare un tifo Grazie Allora Quanto sono belli questi ravager No c'è 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 I vex così Guardate che figli I vex così Ok l'ho comprato Ma sto potere è incredibile Allora Devento e consolini Scusate se vi ho parlato poco oggi Però Ero preso dai poteri Cioè Mi sono fatto prendere Abbastanza Mi sono fatto prendere la mano Ma capite che c'è un motivo Cioè Guardate che cavolo abbiamo combinato Qual è stato il vostro potere preferito? Decidete Io ho molta difficoltà a scegliere Perché No sono stati tutti Diamante era incredibile Lo so Però sono stati tutti fantastici Però anche quello del Del trasformare in mele d'oro Perché sia È un modo per uccidere Sia per farti mele d'oro Difficile Fateci lo sapere nei commenti Sono super curioso Comunque Ci fermiamo così Per questa mappa Speriamo che vi sia piaciuta Questa cosa folle Che abbiamo creato E ci vediamo In un prossimo video Ciao ciao